ho il video, il video, Laghi, Raffaele, quello che faceva col quad, la vitellona, la scorta e la trattare al pato referendo all'esercito di un paesino, il video, il video, il video, il video, la scorta e la strada, il video, la strada e il video, la scorta e la strada, il video.. E' arrivata, è arrivata, è arrivata, è arrivata. Mi si è svegliato, qua il tendine fa morire. No, no, c'ho il tendine chiamato. E' arrivata, è arrivata, è arrivata, è arrivata. E' 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 arrivata.